Appena ti prendo, ti piccherò sul Tower Bridge! Mi spazzo in dove? Non costringermi a venire lì! Sì, sono sicuro di aver sentito qualcosa! Cos'è questo casino? Sì, sono sicuro di aver sentito qualcosa! Sì, sono sicuro di aver sentito! 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 Non fiatare, cammina. Ai! Ma chi sei? Lasciami! Ssh! Stai facendo troppo rumore. Perché mi hai catturato? Per il furto delle canne d'organo. Ma lo fa anche Charles Vapage. È finita! Eccola! Fratello, sono qui! Vattene! Con calma, non agitarti. Vattene! Non sperare di cavartela. Oh, that doesn't involve me somehow. It's some sort of commotion. Facciamoci un giro. Forza, muoviti! Aiuto! Fratello, aiuto! Lasciatemi! Aspetta di lasciarmi! Attenzione! Attenzione! Ehi, piano! Ecco qui! Piano ora! volcanicis, Uno! Ehi, poteca! Ehi, se te facine! Grazie per questa consegna Grazie per la visione